Con Atee, Valde, Mascognamilo, guardate dov'è in pressione, Bombaggi, tocco dentro di prima, Van de Putt, Iemmello si chiude il triangolo, Van de Putt dentro l'aria, Van de Putt, Iari Van de Putt, Catanzaro 2, Messina 0, 1-2 con Iemmello, palla all'angolino, tutti in macchina, Catanzaro viaggia sulle ali dell'entusiasmo, 2-0 al Messina. Catanzaro, Catanzaro 2, Messina 0, segna ancora lui, con il numero 27, Iari! 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 Il 5-0 al Picerno, il 5-0 al Latina, adesso 2-0 al Messina, insomma Van de Putt ancora non si era sbloccato, ci ha preso gusto in questa sfida, troppo spazio per lui, troppa libertà per gli attaccanti del Catanzaro, troppo facile per il 27 Iemmello confezionare la giocata, nulla da fare per Daga. 2-0 per il Catanzaro